Entreranno in funzione al massimo per i primi di luglio prossimo le telecamere di videosorveglianza fatte installare ad Agropoli. Ad affermarlo è il comandante della locale Polizia Municipale, Maurizio Crispino, che sottolinea L'installazione è stata completata e si stanno predisponendo le ultime cose utili per avviare il servizio. Le immagini video finiranno tutte in un cervellone allestito presso gli uffici dei vigili urbani in Piazza della Repubblica. E quindi davvero questione di pochi giorni prima che Agropoli diventi una città più sicura, con ben 30 telecamere che vigileranno sul territorio e saranno un utile deterrente affinché si riducano furti e reati vari. L'occhio del grande fratello sarà presente in ogni punto sensibile della cittadina cilentana, teatro in un passato anche non molto lontano di una serie di avvenimenti spiacevoli che restano tuttora senza un colpevole. Le 27 telecamere a ripresa fissa sono state collocate, due sullo svincolo Agropoli Nord, due sullo svincolo Agropoli Sud, una alla stazione ferroviaria, cinque sul lungomare San Marco, tre in via Pio Decimo, una all'ingresso dell'area pedonale tra via Pio Decimo e via L'Europa, cinque nel centro storico, due nei pressi del municipio cittadino, due nella villa comunale di via Taverne, due nei pressi della stazione degli autobus tra via d'acquisto e la strada che conduce al liceo scientifico Gatto, due in zona Trentova. Le tre postazioni di videosorveglianza DOM PTZ, con rotazione completa di 360 gradi e un'inclinazione a 180 gradi, capaci di coprire ognuna un'area per la quale sarebbero necessarie 10 telecamere di rete fissa, hanno preso posto invece alla stazione ferroviaria, in Piazza della Repubblica e Piazza Mediterraneo, tra il centro e via Taverne. L'intervento è stato finanziato con fondi PON FSR Sicurezza per lo Sviluppo.